Torniamo a parlare di viabilità, viabilità in Alto Tevere. Lo facciamo con il consigliere regionale della Lega Nord, Gianluca Cirignoni. Dalle dichiarazioni del sindaco di San Giustino, Paolo Fratini, dell'assessore al bilancio del comune di San Giustino, Simone Selvaggi, sembra che due annosi problemi, e mi riferisco alla statale di Bocca-Trabarea e all'incrocio di via Citernese nel comprensore di San Giustino, sembra che possano essere sbloccati. A breve potrebbero partire i lavori per le due rotatorie. Ecco, io innanzitutto mi auguro che non si tratti dei soliti annunci trionfalistici, cui poi seguiranno ancora anni di nulla di fatto. Questo è chiaro. Se vedremo quello che succederà, noi sicuramente vigileremo perché questo annoso problema venga risolto. Ricordo che, tra l'altro, io stesso ho segnalato qualche tempo fa sia al sindaco di Citerna che a quello di San Giustino, proprio per risolvere le problematiche annose della viabilità ordinaria di quei due comuni e quindi anche dell'Alto Tevere, in particolare riferimento alla strada provinciale Cento per il comune di Citerna, una strada che ha fatto tanti morti, e alle due rotonde da fare sulle intersezioni tra la strada statale 73 per Urbino e la viabilità ordinaria di San Giustino. Ecco, ho segnalato a questi due sindaci, neanche un mese fa, che la Regione aveva fatto un bando al quale potevano partecipare i comuni per mettere in sicurezza la viabilità presente sul loro territorio, la viabilità pubblica. Ecco, prendo atto che da quello che ha detto il sindaco di San Giustino pare che mi abbia ascoltato perché, da quello che ho sentito, ha dichiarato che hanno presentato a tempo di record un progetto per partecipare a questo bando. Ecco, su questo ne prendo atto con soddisfazione. Vedo che, insomma, il sindaco di San Giustino si è mosso bene da questo punto di vista. Ecco, speriamo che però non siano solamente mere dichiarazioni e che in particolare ci sia un accordo con la Regione Umbria perché, insomma, a fronte di questo progetto presentato qualche soldo arrivi per sistemare, per mettere in sicurezza quella rotonda nei pressi dello stadio per la quale la gente e noi stessi abbiamo raccolto tantissime ferme. Sono anni che ci battiamo e si chiede sia una rotonda che un passaggio pedonale protetto. Così come dovrebbe essere fatto all'incrocio l'altro sempre intersezione che è stata teatro recentemente di un incidente stradale molto grave nel quale sono rimasti coinvolti, tra l'altro, cinque giovanissimi calciatori ricoverati in ospedale. Ecco, anche quell'intersezione deve essere sistemata perché in Alto Tevere non ne possiamo più di strade fatiscenti e in particolare di annunci di sestimazione cui poi non seguono i fatti. Prendo atto invece che per quanto riguarda la strada provinciale Cento nel comune di Citerna che è un annoso problema il collegamento tra Citerna, Trappistrino, Citerna e Fighille una strada che ha fatto tanti morti purtroppo, tanti incidenti stradali che è fatiscente è limitata a 30 km orari. Ecco, su questo invece tutto tace sia dal punto di vista della regione che dal comune che dalla stessa provincia. E anche ecco, qui noi continueremo la nostra battaglia e ovviamente faremo pressing perché questi lavori vengano eseguiti. E78 e E45, parliamo di E45 perché oramai crediamo che la E78 non essendo stata inserita nel decreto sblocca Italia se ne parlerà forse fra qualche anno. E45 si va sempre più verso l'autostrada. Allora, noi ribadiamo come forza politica la nostra ferma contrarietà, la trasformazione in autostrada dell'E45. Riteniamo che sia solo una mera affare per pochi privati, quello quindi di mettere il pedaggiamento su una strada che è già a quattro corsie e che secondo noi ha solamente ed esclusivamente bisogno di essere ammodernata, messa in sicurezza e messa disponibile, resa disponibile in tranquillità per gli utenti della strada. Ecco, il punto è questo. Vengono spesi una marea di soldi sull'E45. Io ho fatto ultimamente anche l'ultimo esposto, il quarto di una lunga serie, proprio per denunciare la maniera oscena in cui vengono eseguiti questi lavori. Purtroppo chi percorre adesso l'E45 in direzione di Cesena si rende conto che tra San Giustino e Bagno di Romagna è tutto un cantiere. Quindi ci sono soldi che vengono spesi, però vengono spesi dopo pochi mesi devono essere spesi un'altra volta. Quindi marea di soldi che vengono spesi, però i lavori, la strada è sempre fatiscente. Ecco, quindi noi crediamo fermamente sull'E45 che no alla sua trasformazione in autostrada, sì no al pedaggiamento, quindi assolutamente sì invece ad una strada pubblica, gratuita e sicura. Per quanto riguarda l'E78, debbo dire che il comitato di cui faccio parte, il comitato apriamo la guinza, ha raccolto e è arrivata a raccogliere 2.800 ferme. Nei giorni scorsi le abbiamo consegnate al viceministro Nencini che era in visita qui in Alto Tevere, gli abbiamo consegnato le copie perché gli originali arrivati a 10.000 ferme li consegneremo ai consigli regionali di Toscana Umbre Marche con i quali chiediamo che nelle more della realizzazione di questa importante strada e o nel caso non venga fatta comunque la galleria della guinza venga ammodernata, messa in sicurezza e resa disponibile per i nostri territori collegandola alla viabilità ordinaria. Un progetto che si può fare, che costa molto meno, che ha un impatto ambientale molto minore, che salterebbe totalmente tutta la problematica riguardante l'attraversamento del Paese di Selci in quale con il nostro progetto, con la nostra proposta non verrebbe minimamente sfiorato, consentendo invece un collegamento veloce e sicuro tra la Valle del Tevere Umbre Toscana, l'Alta Valle del Tevere Umbre Toscana e l'Alta Valle del Metauro. Devo dire però che ho assistito a delle dichiarazioni quantomeno estemporanee da parte sia dell'assessore regionale Rometti, del sindaco di Città di Castello e anche del viceministro Nencini. Questo terzetto ha dichiarato poco tempo fa, con toni trionfalistici, che il completamento delle 78 sarebbe stato inserito nello sblocca Italia e invece non è stato inserito. Ho le conferme per i quali sono state solo affermazioni trionfalistiche ma non vere. Quindi una bufala, prima bufala. Seconda bufala, il viceministro ha detto che la società di progetto per fare questo completamento sarebbe stata già costituita mesi fa, e questo non è vero, o la documentazione che testimonia che non è vero. In questi giorni dovrebbe essere costituita finalmente invece questa società di progetto, la quale magari intanto potrebbe occuparsi anche di verificare la bontà della nostra proposta, cosicché da non buttare via fondi pubblici solamente pagando gli stipendi, i premi ai dirigenti regionali e statali coinvolti nella società. E quindi aspettiamo di vedere se questa società di progetto veramente verrà fatta, perché se non veresse fatta sarebbe un grosso scandalo, sarebbe veramente da aspettare questi signori con le uova marce e tiragli in faccia.